30 gradi, questa la temperatura registrata qualche sera fa all'interno del reperto di medicina e chirurgia dell'ospedale del Casentino a Bibbiena. A denunciare la situazione il sindacato Nursit durante l'estate spiegano Il caldo all'interno del reperto di numerosi ambulatori è insopportabile, complice anche l'alto tasso di umidità. Il colmo è stato raggiunto l'altra sera quando all'interno della medicheria il termometro del ventilatore, peraltro acquistato dai lavoratori, ha fatto registrare il dato record dei 30 gradi. Si tratta di una situazione insostenibile, commenta il segretario territoriale Claudio Cullurà. I colleghi ci raccontano di essere costretti a lavorare con la divisa attaccata alla pelle e la biancheria intima inzuppata di sudore. Dal momento che l'impianto di riscaldamento e raffreddamento è vecchio e non funziona a dovere, dobbiamo sopportare condizioni disumane che mettono a rischio la salute dei pazienti e la nostra. In più occasioni, prosegue il sindacato, l'azienda ha inviato dei manutentori a controllare la situazione, ma la risposta è sempre la stessa, il caldo è dovuto al fatto che vengono lasciate le finestre aperte. Mai tanto difficile, conclude Cullurà, capire che gli operatori sono costretti a spalancare le finestre perché l'impianto di condizionamento non è adeguato. Purtroppo questo problema non è nuovo. Già lo scorso anno avevamo segnalato disagi simili, ma non sono stati posti in essere interventi irrisolutivi. Adesso è il momento di agire. Grazie.